La notte di mercoledì 28 agosto, intorno alle 2, i carabinieri di Chieri e Cambiano hanno fermato e arrestato a Chieri due romeni di 37 e 26 anni, ritenuti responsabili di ricettazione e possesso di oggetto da scasso. La coppia, poco prima Chieri, in Viero Aschia, erano a bordo di una lancia libra che non si era fermata a un posto di controllo. Dopo un lungo inseguimento in macchina a piedi, i carabinieri sono riusciti a fermare due fuggitivi. La perquisizione dell'auto, rubata qualche giorno prima a Rivoli, ha permesso di sequestrare 1500 kg di cavi di rame, la cui provenienza è in corso di accertamento, e utensili vari utilizzati per tagliare il rame. L'auto e il rame sono stati sequestrati. Grazie a tutti.